Sì, perfetto, la ringrazio. Sì, 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 sì. Sì, ora pensate di poter venire. Guardi, noi veniamo da Roma e adesso non so i tempi di percorrenza quanti sono. Sono tanti, scusi, tanti, scusi, tanti, scusi, tanti, scusi, tanti, scusi, tanti, scusi, tanti, scusi. Ecco, noi siamo a Staccatura, non so se è frase, lo sento. Praticamente vicino all'Olimpico, allo Stagio Olimpico. Sì, sono un'oretta e mezza. Un'oretta e mezza. Quindi noi partiamo intorno alle 7.30, un'ora e mezza, quindi intorno alle 9.45. Sì, sai che? Sì, ma c'è eventualmente lunedì, ecco, c'è, ci sono gli sciatori in Pesacchi. Sì, 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 ci sono gli sciatori in Pesacchi. Sì, certo, certo. Non vedi, 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 non vedi. Certo, certo, ok, vedi. Perché anche per, come dire, per effetto della telecamera, insomma, dobbiamo fare delle discese a valle se ci sono i sciatori. Sì, come no, il numero è sempre questo? Sì, è sempre questo, anche io sono il presidente del gruppo. Perfetto, quasi, non so se ne chiamo direttamente io o un mio autore. Comunque, insomma, perfetto. No, bravissimo, una persona gentilissima. Allora, un attimo solo, mi dica il numero. 4, 5, 8, 9, 4, 5, 9. Allora, 4, 5, 9. Mi dipende gentilmente il nome? Ah, quindi diciamo, abbiamo anche una persona molto confidente. Sì. Molto bene. Certo. Sì. Sì. Perfetto. Senta, allora sì, rimaniamo d'accordo così. Noi prima di metterci in viaggio comunque la avvertiamo. Così ecco, magari ci diceva anche la situazione e tutto il resto. Sì. Perfetto. Perfetto. Ok, lei è stata una persona molto gentilissima con lei. Sì. La ringrazio. Un forte abbraccio. Arrivederci. 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 Poi. 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 Grazie a tutti.